Sapore di sale, sapore di lame, che hai sulla pelle e sulle tue labbra. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a Eva, vicino a Eva. Ciao ragazzi, acquistone del giorno, lo aspettavo con impazienza. E' arrivato il, finalmente è uscito il Magnum Estivo di Diabolik, una pubblicazione davvero che aspetto con hype e trepidanza. Questa volta sono cinque storie, come avete capito dalla mia intro musicale, dedicate alle storie inventate sul mare. 622 pagine di fumetti, vi faccio vedere anche la bellissima copertina del bravo Giuseppe Di Bernardo, un nome, una garanzia su Diabolik. Le storie sono cinque storie, vi dico che sono disegnate da Zani Boni, poi c'è Angelo Maria e Marco Ricci, e anche il bravissimo Matteo Buffagni. Sono cinque storie. Prezzo, 7,90€. Cioè quindi direi che il rapporto qualità-prezzo-foliazione, come la volete mettere e mettere, è sempre altissimo su questo Diabolik. Forse, l'ho detto anche nei precedenti video, la pubblicazione anticrisi per eccellenza. Davvero. E volevo anche fare, cosa che non dovrei, però lo faccio, in edicola ho visto anche il Maxi di Landog. L'ho lasciato lì. Due storie, cioè perché? Perché l'ho lasciato lì? Perché non vorrei alimentare polemiche, no? Però quando sento dire che quelle sono due storie della regolare al prezzo di due storie della regolare, che culo, e quando invece è un Maxi con una storia in meno, di fatto, c'è scritto anche dietro in quarta di copertina, è un Maxi con una storia in meno, e costa quasi quanto un Maxi normale, quindi non ci vedo la convenienza, non capisco perché creare tutto questo hype, poi mi dà fastidio sinceramente la presa per il culo verso i lettori, i vecchi lettori di Dilan Dog, scrivendo il Dilan Dog che è sempre amato, eccetera, eccetera. Vabbè, sto andando off topic per quanto riguarda il video, perché adesso sono troppo troppo contento per questa uscita di Diabolic Magnum. La trovate in edicola, correte perché sennò fernisce. Ah, vi faccio vedere un po' tutto rosso, vedete? Ecco qua, è il libretto rosso delle storie di Diabolic. Agitiamo pure questo, agitiamo. Per Eva e Diabolic il mare può essere di volta in volta amico, nemico, complice, ma sempre e comunque teatro di drammatica avventura, e alcune di queste hanno condizionato la loro storia. Questo volume li raccoglie in un'edizione riveduta, ricchita e commentata, e infatti all'interno su ogni storia troviamo anche degli approfondimenti. Tra una storia e l'altra ci sono degli editoriali di approfondimenti, una pubblicazione fatta davvero, davvero bene. Queste sono le copertine dei numeri che vengono presentati nell'albo. Cinque numeri, cinque storie selezionatissime, una più bella dell'altra. Ragazzi, che ve lo dico a fare? Andate a prendere un'edicola perché è straconsigliato dalla soffitta di Pippo. Seconda pubblicazione presa in edicola, anche per questo avevo un hype pazzesco. Lo avete visto anche nel video pubblicato in anteprima qualche giorno fa con la scheda sul comandante Mark. Eccolo qui, è arrivato in edicola. Il primo numero ha colori, vi faccio vedere i colori. Allora, aprendolo troviamo una sorpresa della copertina del primo numero. Allora, questa è la versione degli SGS. C'è la copertina è sempre loro, però è stata restaurata per l'occasione. Ricolorata, vi dico subito anche da chi, da colore di Flavio Chiumento. un bel styling, direi, perché non toglie nulla la bellezza della cover originale, sicuramente, ma anzi aggiunge, vedete queste sfumature sul cavallo, la polvere, insomma, è una bella rivisitazione. Più in linea con i nostri tempi. Anche il colore mi piace, perché non è un colore come, perché il dubbio, no? Che il colore poi fosse troppo invasivo. Invece si sono mantenuti sulla linea già adottata per Black & Mickey. Unica e sola, prezzo vi dico 4,99 euro, quindi 5 euro settimanali. Saranno un casino di uscite. Ragazzi, un bel impegno. Per il comandante Mark, però, ne vale la pena. Dicevo, unica e sola, nota, stonata di tutto, che è una cosa che non mi scende, sinceramente. Allora, le storie del comandante Mark avevano la particolarità di essere storie autoconclusive. Storie di 64 tavole, infatti, vediamo, l'albo è di 100 tavole, quindi troviamo all'interno una storia autoconclusiva, che si conclude a pagina 68, e poi comincia, vabbè, già che sta da questa parte, mi dà fastidio il fatto che la sua coperta della seconda storia sia su questo lato e non su questo, vabbè, comincia la seconda storia, che si interrompe. quindi ogni albo c'è una storia e un quarto. Che senso c'ha? sinceramente avrei preferito o un albo di 64 pagine con una storia completa o uno di 128 con due storie complete. Che senso ha fare un albo di 100 pagine con una storia e tre quarti e poi sul prossimo ci sarà un quarto e tre... cioè, perché? Perché fare questa cosa? Non mi è piaciuta. Fatemi sapere invece voi che cosa ne pensate di questa... di questa trovata. Sinceramente, forse è per avere una continuità, non con le altre pubblicazioni, vabbè, sono d'accordo. però un minimo di... cioè, mi sembra una forzatura, un adattamento che non mi è piaciuto. Questa cosa qui, sinceramente, non mi è piaciuta perché preferisco avere o un albo... cioè, sicuramente sono storie complete, perché non avere una storia completa? Questo dico io. Cioè, o una storia completa e un pezzo di storia o... no, non mi è preso da questa cosa, sinceramente. Però vi consiglio, comunque, la lettura del comandante Mark perché i fumetti degli SGS sono, sono bellissimi, bellissimi, davvero. Hai voglia a leggere storie così belle in edicola, avercene, magari, sarebbe una ficata avere delle storie così in edicola al giorno d'oggi. Ironico. Andate a vedere il video. È divertente, ironico, avventuroso. I fumetti degli SGS sono bellissimi, anche se il mio personaggio preferito rimane sempre quel biondone muscoloso di Black. Anche un po' tamarrone, Black, secondo me. Quindi, questi sono gli acquisti del giorno, acquisti stra, 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 stra consigliati dalla soffitta di Pippo. Io, ragazzi, prima di salutarvi volevo dirvi un paio di cose. All'anzitutto, le operazioni delle buste sorpresa continua, presto vedrete altri unboxing, devo ripubblicare l'unboxing di Simone perché aveva inserito di sottofondo una musica coperta da copyright e YouTube me l'ha rimossa come ben sapete quindi lo ripubblicherò senza audio con una musica free, purtroppo mi toccherà fare così è un peccato perdere perché comunque Simone ha fatto il video con gioia, con passione quindi mi sembra brutto non pubblicarlo sinceramente per questo motivo quindi troverò il sistema per ripubblicarlo. Nel frattempo stanno arrivando altre buste sorpresa mi state facendo i complimenti per l'iniziativa chi vuol fare l'unboxing me lo può mandare così io lo pubblicherò nei prossimi giorni diciamo sono in cola gli unboxing non si sono interrotti per quanto riguarda i video di ieri ragazzi è un po' cioè sì io gente che mi scrive tu non ami i fumetti io amo i fumetti ho un canale da 4 anni ho un canale che parla di fumetti ci sarà un motivo poi non tutto quello che vedete non può cioè diciamo anche la magia di youtube è quella io sono un lettore di fumetti ma sono anche uno youtuber quindi l'idea lo scopo era proprio quello di impressionare no? ognuno poi ha i suoi i suoi modi comunque non vi assicuro che nessun fumetto è stato maltrattato per per fare quel video però tra il bianco e il nero ci sono una scala infinita di grigi anche in diabolica vedete quanti grigi ci sono faccio vedere i grigiani di buffanni che sono che mi piacciono sempre tanto perché belli queste immagini tutta col grigio belle poi ci sono anche naturalmente i classici retini alla diabolica che sono diciamo il marchio il marchio di fabbrica di diabolica questi retini diabolica rimane per fortuna una pubblicazione legata alla tradizione e comunque ogni storia è originale e riesce ancora ancora a sorprendermi è un grande merito questo di diabolica sinceramente il video finisce qua io vi saluto iscrivetevi al canale e condividete il video ci vediamo alla prossima ciao ragazzi